Chiuso per lutto? Povero Gino, ieri sera stava tanto bene, ma com'è successo? Stamattina ha appena aperto un embolo e se ne è andato, coraggio. Aridaglia con st'embolo, un infarto è stato. E quando riaprono? Mai. Ma se uno deve prendere un vestito. Io era una settimana che dicevo che stava male, ma nessuno mi dava retta. Ce l'ho coraggio, Sir Pasquale, ce l'ho coraggio. Scusi, mi scusi, scusi tanto, no? Siccome mi è rimasto il vestito giù nella dintoria, no? Non so come fa per riprenderlo. Ma che gli pare questo il momento? Senta, la signora c'è, signora. Sì, è nell'altra stanza. Mo' ci vado. Grazie. Oddio, Gino, Gino mio. Signora. Signora. Signora? Scusi tanto, a me è rimasto il vestito giù in tintoria. Allora... Grazie. No, è che mi è rimasto un vestito giù in tintoria. Se qualcuno con una chiave mi apri... Grazie. Prego. Oddio, Dio... Lucia, allora stanno i calzini. Di là, nel secondo calzetto. Oddio, Dio... Oddio, Dio... Oddio, Dio... Oddio, Dio... Quella potrebbe andare bene. Oddio, Dio... Oddio, Dio... Oddio, Dio... Gino! Gino mio! Gino mio! Gino! Come farò? Sola, sola! Aiuto! Dio mio! Gino mio! Aiutami pure a me! Gino mio, aiuto! Scusa Gino, ma qua mi parte l'aereo, se mi sbrigo. Dio, Gino mio! Oddio! Si è mosso! Si è mosso! E che? Si è pure tolto i calzoni?